Il percorso sino ad ora è perfetto ma le insidie sono tante lungo il cammino dalla capolista Manfredonia che oggi si trova di fronte alla squadra di valore come la polisportiva futura Modafferi rischia, arriva Zullo, Davide Moura la pressione alta e positiva per il Manfredonia che sblocca il risultato 1-0 al minuto numero 4 e 49 attenzione Ronaldo lascia sul posto l'avversario ed è poi determinante la deviazione in calcio d'angolo quindi tocco che è arrivato Onorio il tiro morbido da sottomisura Pisetta alza un pallone pericoloso la gamba sinistra ma rimane in campo palo di Moura palla lontana si agganciano sia Ronaldo attenzione Ronaldo dal nulla Falcone lotta, Ronaldo recupera la palla, Ronaldo ancora Ronaldo Ronaldo tocco morbido Ronaldo Cabarcas per il raddoppio del Manfredonia e 2-0 supera l'avversario, bella palla per Giampaolo ancora Giampaolo, cerca Murgo, lo scarico per il tentativo da terra da parte di Nenna che per poco non fa 3-0 l'anno scorso in A2, bella palla di Nenna per Zoppo, ancora Zoppo, Zoppo, Zoppo fa girare palla la squadra di Fiorenza, sul secondo palo tap-in di Umberto Onorio per la rete del 2-1 della Polisportiva Futura ancora Ronaldo taglia il campo in diagonale, bello lo scarico per Moura arriva Murgo che si divore il 3-1 Ronaldo tiro, traversa improvvisa di Ronaldo sbaglia ancora Zullo, una giocata facile, Pisetta, apertura per Modafferi palla di pochissimo fuori lo scarico è sbagliato perché c'è Moura, la puntata di Moura palla a fondo campo siamo appena all'inizio del campionato ancora verso Gelbe, questo pallone fantastico di Ronaldo è la rete di Darius Gelbe che esulta per il 3-1 del Bitulano Dragstor Manfredonia da una banda all'altra il tentativo è la parata in due tempi da parte di Lielmi usa tutto il perimetro della metà campo avversaria la Polisportiva Futura ancora Pisetta e arriva il gol da parte di Nicola Modafferi al volo per il 3-2 Futura bella palla per Minnella ed è determinante Gielmi Modafferi, la puntata che parata da parte di Gielmi Minnella si accentra bella palla per Pannuti Pannuti a portiere battuto e come un gol quello salvato da Michele Murgo apertura per Modafferi in mezzo Pisetta lotta con Moura arriva Giampaolo Murgo allontana e la palla termina fuori ed è finita è finita il Palas Caloria quinta vittoria su 5 gare per la capolista Bitulano Dragstor Manfredonia che supera 3-2 la Polisportiva Futura grazie a tutti Grazie a tutti